Quest'oggi presentiamo i 14 punti di Bianchi. 14 punti non sono scelti a caso, ma vogliono ricordare, ovviamente con le debite proporzioni, i 14 punti di Wilson, del Presidente americano, che alla fine della Prima Guerra Mondiale cercò di dettare la linea per la ripartenza in un'Europa dilaniata da una guerra fratricida e crediamo che il momento che stiamo vivendo sia un momento che deve guardare la ripartenza. Dobbiamo rimettere insieme le opportunità che la nostra città, la nostra comunità vuole esprimere e quindi dobbiamo farlo con chiarezza, con poche cose, cercando di farle al meglio, in un processo che deve mettere al centro la visione di una nostra città che dal nostro punto di vista ha due gambe vocazionali, la vocazione imprenditoriale e la vocazione di natura turistica, di attrattività. Il percorso che stiamo facendo ci fa ben sperare rispetto ai sondaggi che sono stati pubblicati anche sui media nazionali, quindi abbiamo due settimane e mezzo che ci separano da qua al voto e sicuramente con l'impegno che non mancherà in questi giorni cercheremo di interloquire ancora di più con la cittadinanza per meglio proseguire nel periodo che ci distanzia tra oggi e il voto.